Sono Antonio Bortoli, direttore generale di Lattebusche. La nostra collaborazione con Alì nasce nel 1988, progressivamente la conoscenza con questo importante gruppo della distribuzione Veneta, ci ha portato ad essere apprezzati per l'intera gamma dei nostri prodotti, soprattutto per quanto riguarda la freschezza e la territorialità, territorialità della materia prima che è garantita da una tracciabilità che ormai da decenni abbiamo all'interno della nostra azienda. Lattebusche ha una gamma completa di prodotti, all'interno di questi un ruolo importante è anche la produzione di gelato, che noi abbiamo denominato Latte Gelato, novità assoluta per la trasformazione della tirocasearia italiana quando abbiamo cominciato, alla fine degli anni 80 e che oggi ha un fatturato consistente e viene distribuito in tutto il territorio nazionale. Mi chiamo Tatiana Dallo e sono la responsabile del laboratorio controllo qualità di Lattebusche. Il latte e la panna utilizzati per la produzione del gelato Lattebusche sono materie prime freschissime che derivano dal latte raccolto quotidianamente presso le stalle dei soci di Lattebusche. Queste stalle sono localizzate in tutto il Veneto e per la maggior parte anche nel parco delle Dolomiti bellunesi. Pur essendo lo stabilimento Lattebusche all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, aspetto che garantisce anche il consumatore dal punto di vista igienico, rispetta nelle lavorazioni delle ricette e delle metodologie assolutamente tradizionali. Questo connubio garantisce ai prodotti Lattebusche sapori ed aromi tipici delle aree da cui proviene il latte. Io credo che la ditta Ali abbia scelto Lattebusche per un fatto molto semplice. Noi siamo un'azienda del territorio, utilizziamo esclusivamente materia prima del territorio e soprattutto essendo appunto del territorio siamo in grado con una rete diffusa di camion servire giornalmente tutti i punti di vendita. La freschezza, la tracciabilità, la certezza credo che siano dei requisiti che nel tempo hanno ulteriormente rafforzato la convinzione di Ali che potevamo essere dei fornitori più che affidabili. Grazie. Grazie.